ciao ragazzi bentornati oggi in questo nuovo video sul canale oggi voglio portarvi un video abbastanza importante per quello che riguarda il proseguo della mia carriera isportiva un video che mi fa anche strano registrare perché non pensavo di dovermi ritrovare diciamo in questa posizione ma come avrete intuito dal titolo oggi è l'ultima volta che mi vedrete indossare questa maglia a rappresentare questi colori che per me hanno significato veramente tanto perché due anni e mezzo all'interno di un unico team e sport è paragonabile quasi come una vita spesa per un calciatore all'interno di un unico team ma andiamo per gradi innanzitutto quello che io voglio fare andare a ringraziare veramente tutte le persone con le quali ho lavorato all'interno di makers e che hanno creduto in me a partire da paolo amir thomas e daniele che insomma appunto due anni e mezzo fa hanno avuto il coraggio di credere e scommettere su un ragazzo sbarbatello alle prime armi alle prime esperienze nel mondo dei videogiochi competitivi che però aveva tanta voglia di fare e dandomi appunto la possibilità di siglare il mio primo contratto da professionista e storia che ai più è nota il più si ricorderanno una settimana dopo aver firmato il contratto riuscì a qualificarmi playoff ad amsterdam di fifa 18 andando a giocare il mio primo evento internazionale e chiudendo la stagione di fifa 18 tra i primi 38 al mondo su fifa 19 poi una stagione un po così e così dal punto di vista personale abbiamo solamente di squadra sfiorato la qualifica al mondiale per club e personalmente io ad una qualifica quella di singapore ma vuoi il gioco che non era proprio nelle mie corde vuoi una serie di fattori personali che mi hanno un po insomma influenzato è stata una annata sicuramente da dimenticare quest'anno sono ritornato a togliere quelle a togliermi delle soddisfazioni e abbiamo avuto la qualifica al mondiale per club chiudendo tra i primi team 16 team al mondo ho avuto la qualifica tra i migliori 16 italiani su xbox per cercare di rappresentare l'italia alla nation's cup manifestazione che ancora dovremmo andare a disputare qualora la situazione coronavirus si risolva e poi attualmente sono 45esimo al mondo su xbox primo in italia quindi questo significa che ho assicurato la mia partecipazione playoff sempre se questi si insomma andranno a giocare risolta la situazione coronavirus ovviamente oltre diciamo i miei boss con i quali ho stretto un bel rapporto durante questo tempo ovviamente si sono venuti a creare dei legami pazzeschi anche con i miei compagni a partire da daniele principe che ormai è diventato come se fosse un fratello all'epoca quando entrai c'era gianchi un ragazzo super simpatico e forse qualcuno di voi si ricorderà poi giovi un altro col quale probabilmente ho stretto un rapporto veramente veramente molto intenso poi rete cam van basten coach nick aldan insomma tutti i ragazzi che sono sicuro che continuano a sentire sia dentro che fuori dal campo sportivo makers mi ha dato la possibilità di viaggiare per il mondo insomma fare tante esperienze poter collaborare con brand che mai mi sarei immaginato di poter vedere da vicino come gillette lion duracell sparco armani vedete la maglietta ancora che ho qui indosso insomma quindi veramente mi ha dato tanto mi ha permesso di crescere sia dal punto di vista professionale che personale e insomma mai smetterò di ringraziare questa società per tutte queste opportunità allora starete dicendo liberoschi e allora come mai questo divorzio chiamiamolo così se insomma tutto andava per il verso giusto sì diciamo che in realtà anche io non volevo arrivare a questo a questo punto però è chiaro che arriva un momento in cui nella vita professionale ma non solo nel nostro ambito in generale di una persona arriva il momento in cui la propria ambizione magari supera quella che gli altri ripongono in te di conseguenza siamo arrivati alla conclusione che era più giusto separare le nostre strade e lasciare che ognuno andasse a continuare il proprio percorso in maniera in maniera indipendente quindi insomma il succo del video era era questo spero di insomma trovare una sfida che possa essere stimolante per il proseguo della mia carriera non so ancora quello che mi aspetta ma sono sicuro che l'affronterò al massimo delle mie possibilità nel pieno entusiasmo nella piena professionalità e soprattutto col vostro supporto quindi non mi resta che salutarvi ci vediamo come al solito ogni giorno in live dalle 12 alle 16 su twitch e nulla un salutone peace